Musica Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale Ragazzi siamo in una nuova classificata, stavolta sono da solo, non c'è Tia Sono con l'operatore FUZ e siamo nella mappa confine Voglio la mia squadra carica e dobbiamo assolutamente vincere Abbiamo trovato le bombe, stanno sopra Facciamo così Piazziamo qualcosa di FUZ E non funziona, perfetto Allora dov'è il co... oh c'è qualcuno col C4 Eh, ci hai provato, dai Forse mi ha distrutto... eh, per ora non posso più mettere l'abilità, ovviamente Nemico rilevato all'esterno Lì non vedo nessuno Nemmeno lì Fammi entrare Perché non mi fa entrare? Ok, avremmo entrato Sento qualcuno Sicuramente è là dietro Che cosa? Serio? Serio? Fammi vedere cosa è successo Seriamente? Non si è nemmeno distrutto il muro dove stavo io Oddio, oddio Ok, ora stiamo in difesa Sono con l'operatrice Caveira Avete visto anche voi, no? L'assurdità che è accaduta nel round precedente Ma non diamoci troppa attenzione Forziamo anche qua Mute, mute Ciudiamo qua Ok Mi metto qua io Controlliamo un attimo con le telecamere Ok No dai ragazzi Dai almeno round 2 è vinto Ok ragazzi siamo in attacco Con l'operatore Buck Che non metto da un bel po' di tempo La telecamera E la telecamera Ok Abbiamo trovato le bombe Stanno giù Controlliamo le finestre Che non si sa mai Ci stanno sempre i trollini di turno Ok Dicono che Caveira è sopra E infatti ha ammazzato qualcuno Dovrei avere il drone in giro Quello è il mio È di qualcun altro È il mio Ok Mi sa che è meglio controllare la situazione Allora Non vedo nessuno in giro In teoria è libero Però già so che appena entro All'improvviso Mi appare qualcuno in faccia Che mi uccide C'è Caveira Devi recuperare il C'era Caveira Ragazzi Il drone è il drone attivo Diavolo C'è C'è un C4 Nemmeno quello È esploso Con la granata 2 persone in giro Oh Bastarda C'è Stavo controllando la Fino a 2 secondi fa Me ne vado Appare Caveira Metti la testa fuori Dai Niente Dobbiamo arrasciare Rimangono 15 secondi E quindi siamo uno in meno E dobbiamo Cercare di cavarcela Ugualmente Mettiamo un altro qui Ok Rimangono 10 secondi Rinforziamo In questo punto Un altro Lo mettiamo qua Meglio chiuderla La porta Attenta Valkyrie No no Non va per niente bene Ma è ovvio Siamo uno in meno Basta che crepa uno E siamo in 3 contro 5 Aspetta Valkyrie Non posso aiutarti ora Ci penso io a te Dai 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 Ok ok No Ragazzi E questo succede Quando sei uno in meno Non hai il tempo Di fare niente Perché ti lasciano addosso Sapendo che siete In minoranza Dai dai Ce la potete fare È rimasta solo Ash E lei ho levato anche Grandissimo Grandissimo Fontas L'avevo beccata Quella bastarda Quindi Anche se non l'headshotavi La uccidevi subito Comunque grande azione Fontas Rieccoci in attacco Siamo al matchpoint Sono con termite Sono con termite E loro hanno pulso Quindi Sti bastardi Ce la faranno sudare Questa Agia Nessuno indica Dov'era Ok No ok Niente in realtà E mi sa che sto round Non lo vinciamo Noi Tutta colpa di quello Che è uscito Comunque Perché Se non fosse uscito Quello Niente A parte il fatto Che sto giocando Uno schifo Però si sta sentendo Un botto Il fatto che Ci manca un giocatore Nella nostra squadra Perché Avremmo potuto Terminarla Molto tempo fa La partita Invece Avendo un giocatore In meno Ci stiamo trovando In difficoltà E gli avversari Ci stanno pure Recuperando Comunque ora Sono con l'operatrice Frost Senti Non mi Ecco qua Allora Piazziamo le trappole Piazziamo una Alla finestra Allotaniamoci subito Ne piazziamo Sì ma Qua avete aperto Tutto Ma perché Ecco Bravo Pulse Uso Uso il sensore Cardiano Piazzo Una random Qui Comunque c'è un drone Lì Termite Ha sfondato Vorrei piazzare Un'altra trappola Però Già sono lì I nemici Dai Grandi Quattro Quattro Indietreccia 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 No Cazzo Non ho fatto in tempo Pure E sopra Stanno sfondando Eh ma non crepano Non crepa Niente Non vedo niente Hanno pure Glads 3 contro 3 Forza Forza Arrivano Dall'altra parte Ho sentito I passi C'è Buck Dall'altra parte Dai Dai Grande Grande C'è Buck Grande La trappola Di Kapgan L'ultimo Dov'è Dov'è E crepa C'è Grandissimi Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Nonostante fossimo Uno in meno Veramente bravi I miei compagni E non ce crepava Glads Guardate Abbiamo vinto Perfetto Sono molto contento Io ho giocato Uno schifo Però l'importante È che abbiamo vinto Andiamo a vedere Un attimo Il punteggio Fontas È stato fortissimo Tanti like Per Fontas Ragazzi Tre kill Tre assist E quattro morti Invece Fontas Ha fatto Undici kill E tre morti O quattro Se ho visto bene È stato fortissimo Qua non riesco a capire Quanto ci ha dato Però Non manca molto Ad arrivare ad oro Forse ragazzi Sapete cosa faccio Mi porto avanti Con le partite Non le registro Cerco di arrivare A oro uno Perché Stiamo da troppo tempo Ad argento E quindi Penso che molti di voi Si saranno pure scocciati Di vedermi sempre In argento Probabilmente Non vi assicuro niente Farò delle partite Senza registrare Per arrivare Ad oro uno E poi porterò Partite registrate Mentre sarò Nella lega oro Mi raccomando Fatemi sapere Nei commenti Se vi fa piacere Questa cosa Che vorrei fare In ogni modo La puntata di oggi Può anche terminare Vi invito a lasciare Tanti like A commentare A iscrivervi Se non siete ancora iscritti A condividere il video Con i vostri amici E a seguirmi Sui vari social network Che trovate in descrizione Che sono facebook Instagram E snapchat E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao